La capogruppo consigliare di PDR Sicilia Futura al comune di Agrigento, Nuccia Palermo, stigmatizza l'esclusione di Agrigento per mancanza di progetti dai 13 comuni beneficiari degli oltre 100 milioni di euro del patto per il sud destinati a interventi di consolidamento idrogeologico e recupero sicurezza. La cosa ci indigna e ci crea una sorta di insofferenza che va a scontrarsi con quella che è una dichiarazione dei ultimi sondaggi che dichiarano, e quello potrebbe anche essere una cosa positiva per tutti, a prescindere dagli schieramenti politici, il nostro primo cittadino Lillo Firetto, il primo cittadino per eccellenza per la Sicilia, quindi il migliore. Beh, io qua non riesco più a capire come vanno le cose e spiego subito perché. Noi abbiamo bisogno di capire come mai il vicino comune di Raffadali riesce a non perdere tali somme e noi sì. Noi abbiamo bisogno di capire sulla base di che cosa il primo cittadino diventa il migliore quando in realtà risposte al cittadino non ne diamo. Noi abbiamo bisogno di capire che tipo di aiuti diamo alla gente comune, la gente che vota e che viene ricordata da tutti al momento delle elezioni per poi essere accantonata. Il compito dell'amministratore, il compito di chi oggi riesce a governare una città è quello di dare risposte lavorative. Non vuol dire inventare delle cose che non esistono, vuol dire incentivare la possibilità che l'economia locale inizi a funzionare. Io non riesco più, non sento più parlare di lavoro. Le persone hanno bisogno di risposte. Sindaco, che cosa stiamo facendo? Come stiamo indirizzando quei famosi PEG? Per chi non lo sapesse, non sono altro che delle direttive che il sindaco deve dare ai dirigenti di programmazione. Come spendiamo? Che servizi diamo? Angelo, noi abbiamo avuto un taglionetto su tutti i servizi. Qua mi parlano del miglior sindaco che il mio non è un attacco al primo cittadino. è voglia di vedere fattività e concretezza, cosa che oggi non c'è.